Radiato a vita, multato di 219.000 euro. E' questo il durissimo verdetto della Tennis Integrity Unit, un ente fondato dalla Federazione Internazionale di Tennis insieme al Grand Slam Board, l'ATP e la WTA per salvaguardare la regolarità dei match nei circuiti professionisti. Pesante squalifica anche per Potito Starace, fermato per 10 anni con un'ammenda di 86.000 euro. L'accusa per Bracciali e Starace è quella di aver truccato alcuni incontri dell'ATP 500 di Barcellona dell'aprile 2011. La condanna più dura per Bracciali deriverebbe dall'aver reso possibile un giro di scommesse attorno a quegli incontri. La radiazione ha effetto immediato. Il tennista retino, che è ancora impegnato in doppio dove occupa la centesima posizione, non potrà quindi presentarsi neanche come spettatore a un evento ATP. Starace, che si è ritirato da tempo, è stato condannato invece in un procedimento separato. Entrambi erano stati assolti in secondo grado dalla giustizia italiana. Ora potranno fare appello alla Corte arbitrale per lo sport per cercare di vedersi ribaltato questo durissimo verdetto.